L'arpa di Vigiano è l'espressione musicale più originale di questa regione, antica cerniera tra il mondo della Magna Grecia e i popoli della Lucania. L'arpicella è stata per secoli lo strumento tipico dei musicisti ambulanti che hanno attraversato regioni, nazioni e continenti sviluppando suoni e tecniche uniche nel loro genere. Una storia leggendaria, riscoperta con rinnovata vitalità da grandi interpreti come Vincenzo Zitello e da numerosi giovani esecutori. L'arpa di Vigiano è stata per secoli lo strumento tipico di Vincenzo L'arpa di Vigiano è stata per secoli lo strumento tipico di Vincenzo e la popolazione di Vincenzo E la popolazione di Vincenzo Grazie a tutti. Grazie a tutti.